buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale oggi parliamo di detersivi e niente vi faccio vedere i detersivi che ho terminato e vi dico cosa ne penso appunto allora iniziamo con questo detersivo in polvere per la lavatrice che tre in uno sbianchi bianchi più a lungo igienizzante efficace a basse temperature devo dire che è effettivamente così io mi sto trovando bene mi sono trovata bene tant'è che non è la prima non è il primo non è neanche l'ultimo insomma non è la prima volta che lo utilizzo e devo dire che è anche buono abbastanza come rapporto qualità prezzo lo uso solamente per i capi bianchi e devo dire che questo insieme magari anche un disinfettante uno sbiancante i capi non sono più grigi come li avevo prima devo dire che con questo mi sto trovando bene chiaro che mi trovavo molto bene anche col dixon o col dash però hanno un costo un pochino più elevato e devo dire che questo comunque mi aiuta tantissimo a tenere i capi bianchi poi parlando sempre di lavatrice vi mostro anche questo questo il liquido che non è la prima volta appunto che lo prendono vino bianco alla freschezza di muschio bianco perché mi piace la sua profumazione questo qui lo uso particolarmente quando devono devo fare i colorati e lascia anche una buona profumazione sui capi quindi spesso mi capita di comprarlo adesso ho trovato in offerta un altro un'altra marca però devo dire che questo è veramente valido mi piace in questa profumazione e poi passerei dunque per quanto riguarda hanno ancora per la lavatrice ecco qua un vino bianco ecco quello questo qua l'avevo preso in offerta ed è anche questo qua un additivo che aiuta a tenere i capi più puliti non più puliti più igienizzati ma anche più bianchi quindi aggiungevo vedete anche qua c'è il simbolo no e devo dire che funziona ovviamente il costo di omino bianco è un prodotto quindi che costa per cui io lo compro indipendentemente da quello o lo compro quello che trovo anche in offerta se è buono come prodotto questo devo dire che è valido mi è piaciuto veramente tanto poi passerei alla lavastoviglie terminato questo detersivo liquido mi piace il finish quantum questo alla profumazione di limone profumazione sinceramente io non la sento cioè particolare al limone però devo dire che mi piace i piatti escono puliti ed è valido insomma sicuramente poi sempre per la lavastoviglie ho terminato il sale lavastoviglie che ovviamente io mi dimentico sia di comprare che sia di inserire la lavastoviglie e quindi ogni tanto non ce l'ho in casa come in questo momento dovrei comperarlo per cui questo qua dell'esse lunga per me non c'era non ho notato nessuna differenza tra un prodotto di un sale di una marca piuttosto che un'altra questo è valido per cui continua anche a comprare poi vediamo un po allora allora terminato questo winnes che è vecchissimo vedete come con tutto anche consumato winnes che al trattamento auto pulente per la doccia senza asciugare questo mi era piaciuto un parecchio io asciugavo lo stesso il vetro dopo qui c'è scritto però diciamo che l'ho abbastanza centellinato anche se per il motivo semplice che non sono riuscita più a trovarlo ho trovato il sostituto ovviamente di questo ma questo in se stesso così mi sembra di aver capito che non lo producono più quindi non c'è più questo mi è piaciuto veramente tanto che devo dire purtroppo non c'è più ma quello che ho trovato spero perché adesso l'ho appena terminato spero sia valido insomma come questo qua poi terminato questo profumatore per l'ambiente la lavanda di esse lunga allora non l'abbiamo utilizzato per l'ambiente ma per le scappiere per le scappiere e sì per l'armadio dove teniamo appunto le scarpe e scatole magari che con che contengono qualcosa non per l'ambiente è un buon prodotto esse lunga della marca esse lunga c'è solamente questo lavanda o l'altro che è la al mughetto se non sbaglio quindi alterniamo insomma questo qua terminato ma è buono insomma per il lavoro che deve fare va benissimo e infine ecco qua l'amore mio della candeggina mi piace molto la candeggina perché quando la utilizzo mi sembra di pulire maggiormente le cose di di averle quindi maggiormente anche pulite questa è una candeggina classica sinceramente da un po che c'ero lì perché ne avevo prese alcune confezioni cioè uguali quindi in base al rapporto anche qualità prezzo e sì insomma valida non è da dire a me piace anche la profuma il profumo l'odore della candeggina forse perché abituata ad andare in piscina dai tempi della quando sono nata non mi dà fastidio insomma e questo era l'ultimo detersivo spero di avervi incuriosito io vi saluto e vi do appuntamento un prossimo video buona giornata a tutti grazie 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 grazie